tutto è pronto per questo derby numero 239 partiti batte demetri albertini albertini contro pagliucca il tiro spiazzato il portiere da palo in gol albertini ha colpito il palo interno ed è 1 a 0 quando siamo al 29esimo minuto il pallonetto per Savicevic Savicevic riesce ad evitare Bergami ancora Savicevic ha rubato il tempo a Bergami sta per entrare in area e poi c'è il servizio per Gans ed è gol un servizio involontario da parte di Saltor e il Milan può raddoppiare grazie a Maurizio Gans quando siamo al 32esimo e 55 secondi il Milan è in vantaggio per 2 a 0 e albertini sopra il numero questa volta da parte della difesa interista attenzione ancora Saltor e Saltor l'ha combinata grosso dopo aver servito Gans questa volta ha servito Savicevic la giusta è 3 a 0 attenzione gol autogol come inizia il secondo tempo dopo 18 secondi è sembrato colonnese 4 a 0 incredibile calcio di punizione con pagliuca che prova a sistemare la barriera batte Nielsen attenzione gol quattordicesimo minuto e sono 5 attenzione un itepo costatare la stranone ecce la sedia controllo ecce queste ute guan Grazie.